segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te intanto la prima grande questione è perché è un accordo storico e se lo è davvero secondo te no non lo è davvero e questo lo vediamo subito l'ultima affermazione corretta cioè si è raggiunto un qualche accordo per poter mitigare gli effetti delle perturbazioni meteorologiche a carattere violento 50 paesi tra cui molti insulari rischiavano di vedere compromessa la loro stessa esistenza in vita e lì qualcosa si è fatto peraltro con risorse scarse la questione se o no si aumenterà di un grado virgola 5 la temperatura dell'atmosfera media nel prossimo futuro è già destituita di fondamento io non so perché dicono queste cose basta guardare il dato del production gap cioè la differenza che c'è fra quanto investono attualmente le compagnie gas petro carboniere in combustibili fossili e quanto dovrebbero invece investire se volessimo tenere la temperatura a un grado virgola 5 quello che si vede lo trovate dappertutto questo dato e che siamo già in uno scenario da 2,7 dunque questa cosa qui che ci ripetono ormai dal g20 capitanato da draghi l'anno scorso a roma è una stupidaggine perché nei fatti già non esiste nei fatti cioè già stanno continuando ad investire in un settore per cui poi bruciare quello che tiri fuori è obbligatorio vedete pette dunque aumenterà la temperatura altra cosa è sul nominare la parola petrolio allora guarda che io l'ho guardate tutte quelle 25 pagine che erano stanotte in giro se non le hanno cambiate io quella parola non l'ho vista e poi me la vado a rivedere bene facci capire bene allora tu ci stai dicendo intanto quindi bisogna cambiare il nostro titolo e mettere un grande punto di domanda perché noi in modo un po entusiastico abbiamo messo addio ai fossili emissioni zero nel 2050 e invece tu dici beh no calma aspetta un momento perché io quella parola lì la parola petrolio io aspetta magari hanno cambiato nella notte ancora l'ultimo io l'ho visto verso l'uno e mezza stanotte ho guardato tutto insieme amici che fanno questo di messiere la parola petrolio non abbiamo trovato ma magari l'hanno aggiunta e quindi lì sarebbe un vantaggio perché almeno nominano quello di cui si parla poi tu dici che azeri nel 2050 ma vuoi fare tutto nel 2049 perché non c'è nessuna tabella di marcia non c'è nessun obbligo non c'è nessun meccanismo di controllo non sono accordi coatti non ti viene dietro nessuno se tu non li fai obbligatori come accadde Mario ascolta una cosa da geologo uno dice nel 2050 non lo useremo più e piano piano diminuiremo ma non è proprio tanto una scelta visto che comunque le risorse petrolifere stanno finendo quindi io dico non lo faccio più ma perché non ce l'avranno più il petrolio o sbagliamo no anche questo è vero ma gli scienziati hanno già indicato in un famoso articolo che è uscito un paio d'anni fa che se tu vuoi stare in 1,5 devi lasciare sotto terra il 90 per carbone il 60 per cento del gas e del petrolio qui invece questi non si fermano quindi io non vedo ma poi ragazzi se sì se mi sbaglio ma mi voglio essere crocifisso al pennone più alto perché evidentemente è meglio così no tutto quello che non che non è non rientra nel mio dubbio di adesso meglio meglio essere smentiti noi siamo tutti contenti se ci smentiscono ma l'abbiamo viste tante volte ste cose sti balletti ste faccende quando mai si sono sono anni che facciamo le cop sono anni che facciamo le conferenze dov'è la tabella di marcia per uscire dove ci sta scritto questo stato ridurrà del 30 questo del 40 e questo organismo controllerà non c'è scritto da nessuna parte questi non mollano perché questa roba qui è un profitto stratosferico solo di petrolio si estragono 95 milioni di barili al giorno ma quando lo mollano sto fatto io non riesco a vederlo con questo ottimismo ma se voi mi smentite io guarda vengo a canossa sulle ginocchia ma quello che si vede l'ho già visto altre volte certo hanno giocato al ribasso poi ci hanno raccontato ah no invece guarda siamo riusciti a trovare l'accordo storico vai a vedere l'accordo e dove sono le tabella di marcia per l'uscita dove sono non c'è quindi è tutto scritto con diciamo è una bella dichiarazione di intenti ma in realtà tu ce l'hai dal tema adesso arrivo subito alicia colò ce l'hai fatto capire molto bene siccome non ci sono vincoli ogni paese andrà per i fatti propri perché tanto non c'è una sanzione se non lo fai è così il punto no e una no non c'è perché l'abbiamo visto già no quando siamo usciti dall'ozono cioè dai cfc erano quei gas che compromettevano lo strato di ozono lo si è fatto con un meccanismo la conferenza di montreal che era obbligatoria e ha portato al bando dei cfc così le lacerazioni dello strato di giorno si stanno ricucendo andava fatta più o meno la stessa cosa ora qui non è che si parla di rivoluzione perché sono decenni che si dice sta cosa l'altro fatto positivo con questo vi saluto l'unico altro fatto positivo è che però si è detto stiamo ascoltando la scienza cioè a dire che la preoccupazione c'è la scienza viene ascoltata dunque non si dà credito a nessun negazionismo cioè del clima dico qui sia si intende che se stanno facendo questo questa dichiarazione comunque di tendi se si stanno muovendo tutti se stanno preoccupati vuol dire che chi dice che il clima sta cambiando per colpa nostra c'ha ragione quindi dunque questo smonta tutti i negazionismi se lo dicono gli stati del petrolio che è così la situazione quelli che ci raccontano che il clima cambia per cause naturali diciamo possono andarsi a fare una passeggiata allegramente perché ce lo stanno dicendo loro stessi gli stati petroliferi gas petro carbonieri che invece quel clima cambia per responsabilità nostra se no non ci prenderemo la briga di fare tutte queste cose dunque questo è l'altro fatto positivo ma il resto ragazzi mi sembra un po di aria fritta si è bloccato si è bloccato peccato perché avrei voluto vedere il suo il suo sì questa è l'aria che tira però non fritta allora rivediamo un attimo prima di salutarlo il nostro amico tozzi aria fritta dicevi aria combusta aria cioè bruciata perché per stare in tema di combustibili fossili cioè qui non si riesce a capire che alle compagnie i veri responsabili sono loro i gas petro carbonieri del mondo non la devi far pagare al poveraccio che c'ha la panda euro 1 la devi far pagare a loro sono loro che devono pagare con questi straordinari extra profitti che hanno maturato con il fatto che non reinvestono nulla in rinnovabile fatelo voi stessi che tanto ci guadagnate lo stesso no potrebbero farlo perché non lo fanno perché troppo gli conviene guardate che la situazione non si scioglie l'italia ha deciso di finanziare ancora il settore dei combustibili fossili con fondi pubblici ma basta è questa roba qui che deve cessare arrivederci ragazzi annotiamoci no vogliamo vedere la tua partenza in bici e subito lì c'è colo e gli altri ospiti vediamo dove ecco di qua ecco se metti così la telecamera ciao 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 mario grazie per la tua testimonianza allora lì